Siamo al lago di Codana, oggi è giorno di riacchettura. Tieni la stretta, che impara l'equilibrio. È la sua terza uscita. Però alla fine vai, deve andare più alla luce. È troppo buia. Vediti più la luce, che faccio un gaffo dopo... No, Luca, è sempre buia. Vai un po' più indietro. Se puoi, non so. No, tanto lei deve imparare a seguirti, vai tranquillo. Vieni, vieni, vieni. È pesante, Luca? È 3,7 kg. Quanto? 3,7 kg. Ah, vai, insomma. Ecco, ecco, girati, girati, qui vai bene, qui vai bene. Oh, che meraviglia. Ma è chiaro che la fotocamera va via, bene, certo. Vai, ma quando devi fare una roba veloce... Non c'è fretta, vai tranquilla. Tanto ti giro il video, poi. Sì, brava, grazie. Questo è stupendo. Mamma mia, che zampe! Ma è una roba. È ammazzana volpe. E quello è un barbagianni? Sì. È l'unico che ho riconosciuto. Sì, è già all'inizio. Mettetevi un po' più... Sì, va bene, così va bene. Volevo stare tanto vicino a lei che... Dopo mi dirai tu il video perché... Sì, sì. Se vi mettete contro il muretto viene più carino, che c'è la pompa dell'acqua gialla che... O di qualunque cosa che sia. Hai una cosa? Sì. Non hai più l'unico, lui. E non è anche perché al contrario cammino all'indietro. Ok. Non sei sempre sicuro. È normale. Sì, però buona perché c'è il braccio che... Tieni là, vicino. Mettiti più vicino. Ti mando a tuo padre. No, no, vai tranquilla. Ok. No, è bravo, è bravo. Mettiti un po' più qua. Mettiti qua. Aspetta che... Ecco. Se non fa la sua scenata non è contento. È talmente bianco che non riesco neanche a inquadrarlo. Si sfoca tutto. E viene bella questa? Viene bella. Mamma mia. Piano. Ecco lì.